Ed eccole le 40 finaliste, finalmente ce le abbiamo! Oh, era ora, sono arrivate! Giulia! Sei arrivato anche tu, finalmente! Oh, sono appena arrivato io, eh! Senti Francesco, te le affido! Me le affidi tutte? Tutte 40! Però io voglio dargli prima un 5, vai, vai, vai! Voglio dargli un bel 5, tra l'altro ottimo lavoro quello della giuria tecnica, veramente tutte bellissime, eccoci qua! Oh yes! La voglio anche il 5, eh! Anche a te! Sono ovviamente molto felice di essere qui, però bando alle cianci! Qua dobbiamo dare le cose più importanti perché si può televotare da adesso! Quindi adesso vi diamo i codici, i loro nomi, ovviamente e soprattutto i numeri per televotare! Vai, tutte e due! Yes! Con il codice 01 Clara Muscherano! Codice 02 Rachele Risaliti! Codice 03 Chiara Esposito! 04 Martina Motta! Codice 05 Simona Tanzi! 06 Barbara Santagati! Codice 07 Sara Barone! 08 Maria Grazia Portesani! Codice 09 Veronica Giolo! Codice 10 Giorgia Zenatti! 11 Chiara Borziani! Codice 12 Nicole Mantovani! Con il codice 13 Elis Mati! 14 Giadira Mohamed Ismail! Codice 15 Alessia Consolini! Con il codice 16 Martina Villanova! 17 Giuseppina Sorrentino! Con il codice 18 Alessia Prete! Codice 19 Angela Crescenti! Codice 20 Barbara Lo Scerbo! 21 Giada Mattias! Con il codice 22 Silvia Lavarini! Codice 23 Naomi Povia! 24 Emma Barbieri! Con il codice 25 Annunziata Paduano! Codice 26 Paola Torrente! Con il codice 27 Nadia Nefti! Codice 28 Viviana Fogliacco! Con il codice 29 Marta Cerreto! Codice 30 Gwendalina Bianchetti! Con il codice 31 Sara Selvaggia Cassiano! Codice 32 Angelica Aceto! Con il codice 33 Gaia Parise! Codice 34 Adele San Martino! Con il codice 35 Nomi Russo! Codice 36 Fabiana Pastorino! Codice 37 Marazzucca! Con il codice 38 Marta Barbabietola! Codice 39 Alessia Lamberti! Con il codice 40 Luciana Di Marco! Mi raccomando votate da adesso! Perché potete votare da adesso! In più vi devo dire una cosa molto ma molto importante! Mi sono portato ovviamente un foglietto! Appunto potete votare chiamando il numero 894 100 ad un costo massimo di Euro 1.01 IVA inclusa! Oppure inviando un SMS al numero 477 0471 ad un costo massimo di Euro 1.02 sempre IVA inclusa! E ha messo un numero massimo 5 voti per utenza per singola sessione di voto! Possono votare solo i maggioremi! Saranno debitati soltanto i voti validi! Trovate il regolamento completo sul sito www.missitalia.lasette.it E allora appuntamento domani? Mi raccomando a domani 20 e 40 per la grande finale di Miss Italia 2016! Qui sulla 7 a domani! Ciao! 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 Ciao!